Buonasera, buonasera a tutti, è qui a Social Sound. Comunque lui è ovviamente musicista, è un autore, è un cantante. Signori, Silvia Boschiero, grande applauso. L'arte della lavorazione artigianale. L'importanza del dettaglio. È nata da un'idea, che è diventata una scommessa, e ora è un'impresa in costante movimento. Ma non ricordo bene cosa c'è dentro me, non ricordo bene cosa... E quindi il nostro smart è stato un progetto svolto... Colore 6. La Regione Umbria presenta Mission Impossible. Ciao, vuoi giocare al business game? Sei pronto? Livello 1. Canto che ando a volte in a stagiazza, che non esisterà, 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 che non esisterà. Canto che ando a volte in a stagiazza, che non esisterà, che non esisterà, che non esisterà. Canto che ando a volte in a stagiazza, che non esisterà, che non esisterà, che non esisterà. Canto che ando a volte in a stagiazza.